Salve carissimi amici, tutto mi bentornati nel suo video di Camera Mina. Questo è un video di servizio, quindi cercherò di essere rapido, veloce, stringato e come potete vedere ho una nuova webcam. Questo già dice tante cose sul perché gli ultimi video sono arrivati un pochettino in ritardo e ancora praticamente non ho parlato niente delle uscite di maggio. In quanto per l'appunto ero in fase di studio per che webcam comprare e pensavo di fare effettivamente molto prima di questo, me ne scuso. Non sono mancati video sul canale ma sono andato un pochettino a rilento. Detto questo, cosa succederà? Più che altro non è che sono andato a rilento. Avevo già fatto quei video prima di decidere di acquistare la webcam e quindi ho dilazionato un pochettino le uscite di ciò che avevo già precaricato. Detto questo, anche perché ho diverse cose di cui voglio parlare e questa qui solamente da una parte, che cosa succederà? Nel corso di questa settimana vedrete gli ultimi video fatti con la vecchia webcam. Quindi perdonate la qualità grafica, la qualità video dei nuovi video, dei prossimi video, ma era il vecchio strumento. Da la prossima settimana, credo, dovrebbero cominciare i video fatti con la nuova webcam. Ci sarà un gioco effettivamente all'aria in corsa dove effettivamente caricherò, non dico un video al giorno, ma uno ogni due, praticamente sì. Perché voglio arrivare a recuperare tutto questo po' di roba, più l'altra roba che sto leggendo, e voglio, entro fine giugno, arrivare a dirvi tutte le letture che ho fatto tra fine aprile e maggio e dirvi che cosa ne penso di quelle letture lì. In particolare, la prossima settimana uscirà quasi sicuramente UTT prima dell'uscita del numero 3. E questa qui è una premessa. Quindi, arriverò, ovvero, un momento in cui mi sarò stabilizzato, in cui avrò fatto tutti questi video, saranno tutti caricati, e da quel momento in poi farò un nuovo video, tra virgolette, di comunicazione e di servizio, dove ci sarà fondamentalmente il mio faccione che vi dirà un paio di cose erano. Sempre nel corso della prossima settimana uscirà anche Anteprima Disney 297, in quanto è uscito il nuovo Anteprima, quindi vi dirò che cosa più o meno mi interessa, che cosa ne penso delle future uscite di giugno-luglio della Disney. Ok? Niente, fondamentalmente, ecco, l'ultima cosa che volevo dire per la fine di questo video, ho lavorato un pochettino di più Robin, figlio di Batman, Giovani Titani, numero 23, quindi lo vedrete nel corso di questa settimana. Nei commenti, ditemi se vi piace come l'ho lavorato, se vi sembra troppo lavorato, ditemi quello che ne pensate fondamentalmente, in quanto sto usando un paio di programmi per fare un pochettino di cose in più, chiaramente la qualità video è quella che è, perché sono ancora con la vecchia webcam, ma se certe lavorazioni che ho fatto sopra, e non vi spoilerò niente, ma lo vedrete perché effettivamente non si può non vedere, se queste cose qui vi piacciono e volete che faccio i video così, ditemelo che effettivamente mi ci metto di impegno a fare una roba del genere. A me non dispiacciono, devo trovare ancora però il giusto equilibrio tra le parti. Detto questo, non vi tedio ulteriormente, ci vediamo al prossimo video del canale, quindi saprete che fondamentalmente spammerò come un dannato video su video, su tutti gli argomenti possibili e immaginabili, ma effettivamente ora ho una nuova webcam e posso permettermi di farlo in alto definizione. Detto questo, ci vediamo al prossimo video del canale.